Senta messa al castello davanti alle autorità per San Pietro e Paolo, portati per l'occasione in piazza d'armi nell'antico maniero recuperato dalle amministrazioni Alfieri e Coppola, durante la quale il parroco Don Carlo ha esaltato la figura dei Santi Patroni. Due colonne della Chiesa Cattolica, ha detto il Santo Perelato. La diretta di Cilento Channel ha fatto condividere alla città il momento religioso sottotono per l'emergenza. L'idea dell'amministrazione comunale di portare le statue al castello è stato un boomerang, perché, inutile negarlo, c'è stato assembramento, mentre la soluzione auspicata dall'intera città il sindaco non l'ha presa nemmeno in considerazione, purtroppo. Nessuna processione si doveva fare come hanno deciso i viscovi e questo è condivisibile, ma portare le due statue su di un mezzo per le vie cittadine senza seguito e con la gente sui balconi avrebbe valorizzato la città, rafforzato la fede e mantenuta la tradizione. E invece no, ancora no, sempre no. Il sindaco non si è presa la responsabilità, forse non aveva il supporto dei vigili urbani, forse non aveva tempo, forse non aveva interesse. Peccato. Un plauso alle forze dell'ordine presenti con le massime autorità, mentre i politici, a parte qualcuno, hanno disertato la messa. D'appunto anche al parroco. Tantissime persone sono salite in serata per rendere omaggio ai santi patroni. E invece hanno trovato la porta della chiesa chiusa, dopo la messa finita alle 20.30. Hanno sbarrato e se ne sono andati. Bastava coordinare un po' gli ingressi, facendo entrare a due per volte si poteva almeno rendere omaggio ai santi. Anche questo hanno negato alla città. Questo andazzo però deve finire. Qui si sta espropriando tutto, si sta esagerando. Ora deve arrivare il momento che la città si ribelle a questa dittatura e che Agropoli torni agli agropolesi. Il sindaco Coppola non si accorge dei danni che sta facendo alla storia, alla cultura e alla dignità di Agropoli. Quando se ne accorgerà, sarà per lui troppo tardi.